Quello che secondo me invece è veramente molto importante è il fatto che abbiamo 10.000 prenotazioni in regione, quindi vuol dire che siamo già adesso a un sesto, un settimo del guado, insomma, in un vaccino che viene vissuto con ansia, ecco, io me ne accorgo dal fatto che ricevo veramente tantissime telefonate, così come i miei colleghi, io credo che ho una telefonata su due di quelle che ricevo. Cioè i genitori la chiamano per chiedere informazioni? Sì, i genitori, sia i genitori conoscenti, persone che magari mi hanno visto in altro ambito, ma la stessa cosa che ricevo, c'è un interscambio di pazienti in questo senso che chiedono, anche perché qualcuno lo chiede a più di uno per avere più certezza. La realtà è che abbiamo a che fare con un vaccino che a mio parere è molto meno problematico della stragrande maggioranza dei vaccini che facciamo abitualmente e che trova le sue indicazioni con molta chiarezza nei numeri. È un vaccino come tanti altri che abbiamo dovuto fare anche obbligatori, quindi insomma niente panico, vacciniamoci. Sì, il vaccino è un vaccino che è stato strasperimentato, abbiamo milioni di casi negli Stati Uniti che hanno fatto il vaccino in questa fascia d'età. Lo stesso discorso vale per Israele, dove sono stati fatti, adesso non so neanche più dirvi esattamente quanti vaccini, dicevo centinaia di migliaia in realtà, anche la peso che abbia passato il milione. Ecco, allora, quando parliamo di questi numeri e vediamo che non ci sono effetti collaterali, non ci sono neanche gli effetti collaterali che erano stati descritti nei ragazzini dai 12 anni in su, dove c'era una bassissima, ma presente, frequenza di miocarditi che peraltro si sono tutte risolte. Qui non c'è neanche tutto questo, non sono descritti casi di questo tipo di complicazione, quindi è veramente un vaccino sicuro.